no si è meglio che vada a prenderle adesso tu rimani qui e non muoverti lo speaker per malusus rumori semettitor è un mammifero bipede in plume dal poderoso apparato fonatorio il suo verso tipico la spicherata risuona ossessivo io posso insegnare come stregare la mente irretira i sensi posso dire come imbottigliare la fama a prontare la gloria che cosa gli hai fatto? non scherzare dimmi il tuo nome e io ho finito la pazienza ascolta Joker tu sei malato ti serve aiuto vai a un lucia schiacciato e vai così meno uno sei riuscita a catturarne uno nuovo? molto bene cominciamo subito amico